Nonché l'ennesima ordinanza fatta in modo autonomo dopo una nottata di discussioni dove si era raggiunto un equilibrio amministrativo e dove aveva promesso democraticità dal giorno dopo, ci siamo svegliati con un'ordinanza dopo due anni di pandemia in cui impediva la musica nei locali, dopo un anno e mezzo di pandemia, locali che hanno sofferto molto in questo periodo a livello economico impediva l'accensione della musica o di qualsivoglia evento dopo le 11.30 e quindi ci siamo visti costretti dopo l'ennesimo tradimento della nostra fiducia e della nostra voglia di fare, siamo visti costretti ad abbandonare la vita amministrativa in questo gruppo e continuare comunque con il nostro Risorgi Sant'Egidio a fare il meglio per i santeggidesi e a incidere per quello che potevamo, con la presenza quotidiana, con le proposte, con le emozioni che potevano essere utili e indispensabili per il miglioramento di questa situazione. Come vi porrete dunque nell'ottica del Consiglio Comunale? Andrete a sostegno o meno del Sindaco della maggioranza a seconda dei casi? Noi ci sono stati già due consigli comunali dove abbiamo dimostrato la nostra serenità nell'azione amministrativa, votando in modo favorevole senza dubbio tutte le proposte positive che l'amministrazione ha portato a conoscenza dell'assise e astenendoci su situazioni dove non avevamo nemmeno modo di poter verificare i documenti, visto che il nostro Sindaco li concede solo 24 ore prima del Consiglio. Voi ovviamente iniziate un percorso completamente nuovo, quali sono le altre accuse che muovete a questo punto al Sindaco, se tendo di liberi di poter giudicare l'operato passato e quindi in prospettiva di quello futuro? Ma praticamente il Sindaco non ha mai interagito con qualsiasi altra figura istituzionale che non fosse solo amministrativa ma anche organi superiori, quindi abbiamo eretto un muro anche nei confronti degli organi sovraccomunali. Nessun rapporto con la provincia, nessun rapporto con la regione, forse perché non è di gradimento al nostro Sindaco la consigliatura e l'amministrazione attuale del governo regionale. Siamo riusciti a rifiutare anche dei fondi perduti dove avremmo potuto ridare vita a delle associazioni oramai chiuse da due anni perché non è in possesso di una struttura dove poter fare sport, noi purtroppo dopo il terremoto del 2017 abbiamo avuto chiusa la palestra e c'era l'occasione con dei fondi perduti regionali di poter riattivare una palestra all'aperto presso gli impianti sportivi con un fondo totalmente gratuito della regione che il Sindaco purtroppo ha voluto rifiutare perché non avrebbe voluto dare lustro ai due assessori, i due più votati della sua amministrazione solo per il fatto che avevano amicizie con il governo regionale. E questo ha cominciato già a far scricchiolare la vera importanza dell'amministrazione che è quella di fare il meglio e il bene di tutta la cittadinanza a prescindere dal colore politico che sia a livello nazionale, a livello regionale o provinciale. Io sono dell'idea che un amministratore comunale dovrebbe fare solo ed esclusivamente l'interesse dei suoi cittadini ma non di 72 cittadini o di 800, noi abbiamo 9.872 cittadini che vanno tutelati allo stesso modo dal primo all'ultimo, a prescindere di chi abbia onorato la nostra campagna elettorale con il proprio voto a favore o contrario a questa amministrazione. Siccome il risultato elettorale è stato evidentemente un successo perché per la prima volta c'è stato oltre il 60% degli elettori a votata fuori di questa lista e quindi c'erano tutti i presupposti per poter fare veramente bene. Come si diceva avevamo un'autostrada davanti a noi, avevamo un gruppo solido, un gruppo validissimo fatto di ragazzi veramente in gamba che solo dopo 15 giorni dalle elezioni si è visto sgretolare per le scelte improprie o meglio, proprie ed uniche da parte del sindaco già nella Costituzione dell'Aggiunta appunto ha dovuto impiegare 15 giorni e ancora di più per scegliere il vice sindaco che oggi lui proclama essere uomo di fiducia e non capisco il motivo per cui abbia dovuto impegnare 15 giorni, infatti siamo stati gli ultimi ad andare in Consiglio Comunale per ratificare le elezioni.